Buongiorno e ben ritrovati per questo nostro nuovo allenamento. Come state? Sta facendo sentire il lavoro sui muscoli? Io un po' sì devo dirvi la verità. Comunque dai, non lamentiamoci, ci mettiamo in posizione e partiamo. Sempre dagli squat, 18 movimenti, chiudo dietro le scapole, piedi dei cerdenti più larghi delle anche, si scende, uno, ben dietro col sedere, due, ginocchi in direzione del punto dei piedi, piccola tensione alle scapole, inspira scendendo, fuori l'aria salendo. Mancano otto ripetizioni. Stai con me, le ultime tre, una, due e tre. A terra per i plank, 40 secondi, bene in posizione. Ti ricordo una versione facilitata con i ginocchi in appoggio, risciucchio sempre l'obelicolo, stringo sempre bene i glutei e sempre una piccola tensione tra le scapole. Se vuoi aumentare l'intensità di questa sfida, torna nella posizione classica. Senti la tensione sull'addome, non mollare, continuo a respirare, stai qui con me. È difficile? No! Andiamo, step up, 16 ripetizioni, salgo bene e riscendo. Sempre il ritmo, frena bene la discesa e spingi bene sulla gamba avanti, le mani. Ancora sei ripetizioni, una, due, spingi bene su tutto il piede, tre, non aiutarti con la gamba dietro, l'ultima. E andiamo, su di nuovo, una, due, spingo bene sempre su tutto il piede avanti, e stendo bene la gamba e frena la discesa. Come state? Sali il battito, è normale. Gli ultimi sei, stai con me. Ancora tre, non mollare. L'ultimo. E si va a terra, push up. Sono 18 piegamenti. Uno, due, tre, quattro. Avvicina bene il petto al pavimento. Puoi appoggiare le ginocchia e continuare con le ginocchia appoggiate. Ancora due. E andiamo con il mountain climber, bene in posizione. Partiamo facilitato. Sono sempre 16 movimenti. Porto il ginocchio al gomito. Tengo basso il sedele. Siamo a sei. Se te la senti e vuoi aumentare l'intensità, portati nella posizione classica per gli ultimi otto. Ancora quattro. Dai che ci siamo. L'ultimo. E andiamo con il dip. Bene in posizione. Sempre in 18. Uno, due, tre. Ormai ho preso confidenza. Non mollare. Sei con me? Tre. Dai, dai, dai. Ancora quattro. Tre. E l'ultimo. Piano. Quattro. Ottimo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro, ragazzi. Sono veramente orgoglioso di voi. Ti aspetto domani per il prossimo allenamento. Ciao. 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 Grazie a tutti